Il presidente dell'Abbia Antonio Patuelli è convinto dell'esistenza di un'economia dinamica a sud Italia grazie anche ai prestiti alle imprese. Adesso però l'idea per l'altra condivisa dalla maggior parte degli economisti e trasformare l'Italia intera in un'unica grande ZES o in 20 ZES, una per regione, senza escludere alcun territorio. Il rilancio parte proprio dalle misure garantite ai territori con tale denominazione.